Ciao a tutti, vi presento il nuovo trecciato di casa Colpici, Weeper, disponibile nella versione 4 e 8 film. È un Ryland di ultima generazione con delle doti veramente straordinarie, tra tutte sicuramente la sua resistenza alla trazione, quindi carichi di rottura molto alti rispetto al diametro di cui è formato. Inoltre è a sezione tonda e ha una morbidezza quasi disarmante, un filo molto morbido, veramente sembra di avere in mano della seta, quindi è un Ryland veramente eccezionale, più che altro perché noi amanti del self-casting ultimamente lo stiamo utilizzando per pescare a lunga distanza. Lunga distanza perché? Perché comunque avere in bobbina una lenza così sottile ci permette di conseguenza di fare i lanci molto più lunghi. Inoltre anche nelle gare, nelle competizioni, abbiamo una sensibilità sul nostro piombo, sulle nostre esche molto più elevata rispetto a un classico nylon, poiché il Bradet non ha la siccità, per cui qualsiasi cosa avvenga sulla nostra lenza noi riusciamo a sentirla immediatamente. È l'evoluzione un po' della pesca del self-casting, comunque sia, sempre più persone si stanno avvicinando all'uso del trecciato in bobbina con ottimi risultati. e il wiper fa proprio a casa nostra, filo morbido, filo che taglia bene l'acqua, per cui abbiamo meno corrente che ci prende la lenza per il bando, sensibilità diretta, lanci molto lunghi, io lo uso e voi provate!